Musica Con il responsabile dei giovani di sezione Puglia Enzo Nigro qui con questo torneo molto bello e particolare si parla di Burrago, si fa però per beneficenza, l'Unital si continua a dare veramente tanto, come sta andando? Ma sta andando penso abbastanza bene, innanzitutto devo fare i complimenti al gruppo di Ostuni che tra le tante iniziative ha pensato a questa bella manifestazione per recuperare dei fondi fondi che saranno destinati ai giovani, abbiamo un pellegrinaggio straordinario quest'anno dei giovani un pellegrinaggio nazionale dove i giovani si ritroveranno all'Urd e sarà un'esperienza straordinaria, un pellegrinaggio a dimensione dei giovani e quindi come tutte le cose i giovani vanno stimolati e quindi uno stimolo arriva soprattutto per quanto riguarda l'abbattimento dei costi del pellegrinaggio che sono non indifferenti e quindi una lode va a chi organizza questi eventi e va fatto soprattutto perché l'associazione deve crescere, non può crescere senza i giovani e va fatto soprattutto perché i giovani vanno valorizzati io non credo in chi dice che i giovani sono nulla facenti, che non hanno responsabilità la nostra esperienza nell'associazione dice che i giovani interessati e responsabilizzati rispondono e allora in quest'ottica dobbiamo guardare e lavorare sia per l'associazione, per il futuro dell'associazione sia perché poi attraverso queste esperienze passa il futuro della nostra società e se vogliamo che cambi qualcosa rispetto ad oggi dobbiamo lavorare in tal senso e quindi grazie a chi sta collaborando, a chi sta creando iniziative che supportano questo pellegrinaggio dei giovani e soprattutto all'associazione in generale in tutto l'arco dell'anno grazie a tutti